Ah, sono proprio innamorata di quel ragazzo, ma così innamorata che non posso stare un momento senza vederlo. La mia amica mi dice, ma non è che c'hai una dipendenza affettiva perché se ne parla tanto, e come faccio a saperlo? E come faccio a insegnare ai miei figli che certi tipi di rapporti forse non sono sani? Lo scopriamo tra poco nel video e nel podcast del lunedì. Cominciamo! Allora, dipendenza affettiva è un argomento di cui si parla spesso, ma come facciamo a sapere se sono solo molto preso, molto innamorato o se sono dipendente da una persona? Ci sono alcune cose da capire, da sapere e te le racconto in questo video, in questo podcast. La prima cosa da sapere è che la dipendenza nei rapporti umani, nei rapporti intensi, nei rapporti amorosi, nei rapporti tra genitori e figlio è normale. Come Silvia ci stai dicendo che la dipendenza fa bene? Sì, vi sto dicendo che una quota di sana dipendenza è fisiologica di tutti i rapporti veramente importanti. Molto spesso la spinta all'autonomia è un modo per teorizzare la mancanza di disponibilità, cioè facciamo attenzione ai ragazzi o alle persone che ci vogliono spacciare l'autonomia come un valore assoluto, perché spesso questa cosa viene fatta per camuffare il fatto di non avere la predisposizione a occuparsi dei nostri bisogni. Insomma, avere bisogno di qualcuno ed esprimerlo e avere qualcuno che si occupa di noi è una cosa perfettamente normale. Il sistema di attaccamento e accudimento, andatevi a vedere il video sui sistemi motivazionali, è qualcosa di connaturato al nostro essere mammiferi. Sentite una parola che è proprio a che fare con l'essere mamme materni. Non solo ovviamente mamme inteso come persona donna che ha avuto dei figli, ma come predisposizione a prenderci cura di qualcuno e a richiedere le cure a qualcuno. Quindi la prima cosa è che la dipendenza è normale. Ma allora come facciamo a sapere quando invece non è normale e non va più bene. Allora come in tutte le dipendenze vere, le dipendenze da alcol, da sostanze, eccetera, anche la dipendenza affettiva ha delle caratteristiche analoghe. Quindi porta al fatto di sentire proprio delle forti sensazioni fisiche quando siamo con la persona amata. Sospiro perché di amata non so se è proprio amore, no? Forse è qualcosa di diverso perché l'amore dovrebbe essere qualcosa che ci fa sentire meglio. La dipendenza è qualcosa che ci fa sentire benissimo con dei picchi pazzeschi e poi malissimo quando siamo distanti. Quindi ad esempio possiamo fare attenzione a questa forte sensazione di montagne russe ottovolante, cioè una relazione nella quale quando vediamo la persona abbiamo veramente una forte botta, quasi davvero come un'assunzione di sostanze e poi quando c'è il distacco ci sentiamo giù depressi, sentiamo proprio un senso di vuoto fisico anche, ci deve far pensare. Certo all'inizio di una relazione può essere così. Una cosa che ci aiuta a capire cosa stia accadendo è che spesso all'inizio della relazione sentiamo una interdipendenza, cioè sono entrambi i partner che si mancano molto, che si scrivono moltissimo, che sentono il bisogno di stare insieme, anche di rinchiudersi in una bolla in cui ci sono solo loro due e gli altri sono all'esterno, ma questo è reciproco. Nei rapporti di dipendenza patologica invece pian piano da un inizio che appare reciproco, il famoso love bombing di cui spesso si parla, si arriva a un momento in cui sembra solo una delle due parti a essere bisognosa di queste attenzioni che iniziano a essere centellinate col braccino corto, anzi si alternano a momenti intensi, momenti di freddezza, momenti di distacco, momenti di silenzio. I silenzi che raccontano le persone che sono all'interno di una relazione di dipendenza sono terribili e sono un modo di mantenere la persona agganciata, come se si stesse sempre lì ad aspettare questa erogazione di questa sostanza che è la presenza poi dell'altro, quindi una cosa a cui fare attenzione è il fatto che qualcuno usi, sentite bene questa parola, la sua presenza e la sua disponibilità emotiva come un motore di premi, punizioni, la usi in modo diciamo mirato per far sentire l'altro in un certo modo. Nel rapporto di dipendenza sana si può tranquillamente dire ho bisogno di te, anche io bisogno di te e questa cosa è una danza dove in vari momenti ognuno si appoggia all'altro, nel rapporto di dipendenza patologica c'è sempre una persona più forte che chiude, apre il rubinetto dell'amore, dell'attenzione, della disponibilità emotiva a seconda, boh, a seconda in realtà di niente, nel senso che poi è la persona dipendente a pensare e anche questo deve essere un campanello d'allarme molto forte, ah se io riuscissi a fare questo forse lui o lei mi darebbe più attenzioni, se sono ancora più attenta, se sono insomma inizia a diventare un qualcosa a senso unico, cioè una persona che rincorre, che aspetta e l'altra quasi raggiungibile, sempre separata da un intercapedine da noi che non possiamo mai superare, che non mostra invece questo bisogno, questa debolezza, questa stessa dipendenza e magari camuffa la cosa dicendo che l'indipendenza è un valore, insomma erogata così forse non tanto e anche Lucy dall'altra stanza conferma. Quindi attenzione alle montagne russe, quindi prima cosa dipendenza normale, seconda cosa come ci accorgiamo quando sentiamo un'altalena molto forte, i rapporti sani dopo un inizio che magari può essere dove possiamo sentire molto il distacco prendono, non dico un piattume, ma dico un normale senso di equilibrio dove so che mi posso fidare e affidare all'altro e l'altro si può fidare e affidare a me, non succede che un giorno l'altro sembra legato a me fortissimamente e poi il giorno dopo non chiama, non risponde, non parla. Un'altra cosa importante da sapere che spesso viene detta e occhio perché spesso poi questo diventa e guardate come mi acciglio perché mi sto già arrabbiando, una arma di vittimizzazione secondaria, di rivittimizzazione è, ma tu ci sei rimasta in un rapporto sbilanciato, ma tu avevi dei tuoi problemi per cui hai, come dire, eri codipendente. Allora può darsi, non dico di no, sono una psicoterapeuta e mi è capitato molte volte di parlare con persone predisposte a farsi pescare da persone con questo tipo di predisposizione ai rapporti di dipendenza patologica. Ma non è detto, ci sono anche persone, ascoltate il podcast di Selvaggia Lucarelli, qualsiasi cosa pensiate di Selvaggia Lucarelli, ma il podcast che si chiama Proprio a me inizia con la sua storia, la storia di una donna non certo non emancipata o senza possibilità cognitive di capire, di comprendere una situazione, no? Una donna autonoma assolutamente, che però cade in un rapporto di grandissima dipendenza affettiva. Quindi può succedere a tutti di incappare con qualcuno che ci manipola? Spesso succede a persone empatiche, se questa è una colpa avere empatia insomma, no? Allora è un po' strano, può darsi che succeda a persone che hanno delle ferite nell'infanzia, che hanno vissuto già dei rapporti all'interno della famiglia dove la persona, il genitore in questo caso era poco disponibile, erogava l'affetto con il bilancino, era molto sbilanciato magari sull'ammirazione per cui abbraccio la mia bambina solo se è brava o se non invece non la considero. Quindi fate attenzione a questo, se vi capita una relazione con qualcuno che mette in atto questi meccanismi per rendervi dipendente e attenzione c'è tutto il correlato. Tagliare fuori gli amici, i parenti, notatelo, sono sempre tutti stupidi, tutti deficienti, man mano ci si ritrova da soli e questa cosa qua ovviamente è funzionale a chi mantiene il punto della dipendenza a far sì che tutto ruoti intorno a quel singolo rapporto e guardate che si arriva veramente a delle cose pazzesche per questo e quindi una persona che mette in atto con voi un rapporto del genere può capitare a tutti ma se invece vi rendete conto che con la vostra amica è così, con la vostra amica d'infanzia era così era una persona che poi vi manipolava, il primo fidanzato per carità era uno con cui voi eravate assolutamente in legame di dipendenza, il secondo fidanzato, insomma se vedete che c'è uno schema ricorrente chiedete aiuto perché probabilmente c'è una ferita nell'infanzia che si ripete. Io lo dico sempre se nasciamo in Francia parliamo francese e ci avviciniamo al tavolino quando sentiamo parlare francese quindi può succedere che ci avviciniamo a persone che richiamano in noi uno schema familiare. In quel caso meglio approfondire con una terapeuta per non ritrovarvi a ripetere questo copione più e più volte visto che è molto doloroso. Una cosa importantissima come bussola anche da insegnare a bambini ragazze ragazzi ascoltate il corpo il corpo vi dice tutto vi dice qualcosa non va in questa relazione anche relazioni che hanno dei picchi altissimi di adrenalina e guardate che anche questo l'ho detto già all'inizio del video ma lo ripeto alla fine. Certo anche drogarsi o assumere delle sostanze vi dà una botta fortissima ma il problema è dopo. Quello che state avendo è quello che avrete. Non c'è la costruzione di qualcosa che si poggia su delle fondamenti e va avanti. È un ciclo che si ripete sempre uguale e questa ciclicità che non va mai avanti e che non va da nessuna parte vi deve mettere sull'allarme e dire forse sono in un loop. Le relazioni non sono un loop le relazioni sono un continuum cioè qualcosa che progredisce che va avanti non si gira come il criceto nella ruota e capite quello che intendo perché è una sensazione che probabilmente a tutti noi è successa in qualche relazione almeno una volta. Allora quando il corpo vi dà dei segnali forti e vi dice ma io non c'ho tanta voglia di vedere quella persona ma io non sono a mio agio quando sono con quella persona vivo in angoscia vivo in ansia vivo con la paura di sbagliare ma questo non va bene in una relazione avere paura di sbagliare perché l'altro ci sgridi ci tolga al saluto ci non ci parla non ci parli più per un mese dobbiamo sapere che tutto questo non è parte di una relazione sana non sto parlando del conflitto nel conflitto succede nelle relazioni sane il litigio la cosa dove ci si scontra e poi si ritorna e si va avanti sto parlando di uno schema dove puntualmente qualsiasi nostro comportamento reale o presunto viene punito con la mancanza di relazione questo non è non fa parte di una relazione sana e il corpo ce lo dice ci dice qui sto male magari ci fa avere dei sintomi psicosomatici l'ansia ma anche altri sintomi quando il corpo ci avverte che qualcosa in quella relazione non va ascoltiamolo perché il corpo è saggio e ne sa a volte più di noi uscirne non è semplice come da tutte le dipendenze perché sarà molto molto forte il richiamo di tornare in quello schema conosciuto che poi ci dà quelle sensazioni così forti anche lì possiamo chiedere l'aiuto di un terapeuta che magari non ci svela chissà che cosa magari sappiamo già come la questione ma ci aiuta a mettere una mano o due mani sulla transenna e a tenere duro quando dobbiamo cercare di sganciarci da quello schema che ci fa così tanto soffrire bene spero che questo video vi sia stato utile se vi va con tutta la delicatezza possibile raccontatemi nei commenti se vi è mai capitato di incappare in relazioni che vi siete resi conto nel tempo essere poco sane disfunzionali non che non vi facevano bene e come ne siete usciti che cosa è accaduto se vi va vi aspetto qui sotto nei commenti grazie ciao